Sindaco parliamo di parco acquatico, ormai la cittadinanza si aspetta ovviamente la consegna di questa grande opera, lo stato dell'arte dei lavori, come siamo messi? Abbiamo completato una parte dell'iter finanziario, i lavori erano già ultimati per come previsti nell'aprile scorso, ma non è stato previsto il completamento di alcuni servizi. La regione Calabria si è mostrata assolutamente attenta, ha finanziato per altri 3 milioni e 6 i lavori di completamento e si sta procedendo in questo senso. Ricordiamo qual è la cifra complessiva ovviamente che si andrà a spendere, che si sta spendendo per la realizzazione di quest'opera che è immensa. Si era partiti da 14 milioni di euro, adesso ci sono altre cifre che vanno aggiunte a queste perché il completamento di tutta l'opera ha richiesto almeno altri, complessivi altri 6 milioni di euro. Quello che verrà fuori sarà davvero una vera e propria eccellenza per l'intera regione. Che cosa comprenderà questo parco acquatico? Si parte dal laghetto, c'è questo previsto il ristorante sull'acqua, c'è una spa di grande eccellenza, c'è il parco giochi con i giochi anche per i disabili. Ci sono tante altre iniziative, c'è una sala convegni di grande importanza sulla quale bisognerà pensare anche tutta una serie di attività. Si stanno anche legando altri aspetti che riguardano Rende e la politica che riguarda l'attività di Rende anche al parco acquatico. Penso per esempio alla adesione che la città di Rende ha fatto per il Galsila, dove io credo che in uno spazio importante che c'è all'interno del parco acquatico bisognerà pensare anche ad eventi di promozione dei prodotti del Galsila. Quindi trovare anche questa sinergia su diversi aspetti e farla diventare davvero una struttura polifunzionale. Pensare a una consegna per fine anno non è un dato eccessivamente ottimistico, è reale.